Nella Top 16 tutte le partite sono importanti, specialmente la prima. È stata una partita dura, c'era tanta pressione perché tutti noi volevamo vincere. È stata una buona gara per iniziare al meglio con una vittoria. Dovremmo essere pronti per la gara con Cantu, contro un nostro vecchio amico come Frank Gaines. Sarà una partita dura e sarà bello incontrare di nuovo Frank, che porterà tutta la sua energia. Saremo pronti per tutto questo.